Quella di Marco Laudato, alter ego dell'autore, è una storia della guerra civile vista dalla parte sbagliata, dalla parte di chi ha perso. A raccontarla è stato lo scrittore molisano originario di Casa Calenda, Gioseri Manelli, nel celebre romanzo Tiro al Piccione, che adesso esce in una nuova veste editoriale per i tipi dell'editore Rubettino, la presentazione in anteprima nazionale a Palazzo Gilla, Campobasso. Sì, credo sia una bella giornata perché Gioseri Manelli, come giustamente diceva lei, è una delle voci più autorevoli del Novecento italiano, mancava dalle librerie da un po' di tempo, un po' per disattenzione, un po' per, posso dire, anche qualche forma di allontanamento da parte dell'intelligenza italiana, di una figura irregolare ma grandissima. Io sono sulle sue tracce da tanto tempo e sono felice che con Tiro al Piccione innanzitutto si possa riportare all'attenzione del pubblico italiano un'opera fondamentale. Tiro al Piccione costò a Rimanelli lo stracismo della critica militante, allergica ad ogni lettura estranea alla vulgata comune dei vincitori. Si tratta invece di un'opera di grande libertà e indipendenza, sottolinea la curatrice del volume Anna Maria Milone. Marco Laudato racconta questa storia, racconta la guerra civile in un momento dove in effetti viene avrolato un po' per forza, si trova nelle contingenze senza sapere esattamente che cosa stava facendo, quindi si trova un po' trascinato e racconta questa guerra con occhi di un ragazzo di 17 anni che non ha esattamente una coscienza politica. Rimanelli è rimasto per troppo tempo, un autore confinato in un cono d'ombra ed un solco fatto di svisamenti politici, di cattive letture e quindi riportare alla luce quella che era la bellezza letteraria di quest'opera e di sottolineare quella che è fondamentalmente il principio di libertà che ha animato sia lo scrittore che il suo primo personaggio, il suo primo alter ego, per me, per noi è stata una cosa fondamentale.